Notte calde in via Ercole Ciofano a Sulmona. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del capologo Peligno per domare un incendio che è divampato da un'auto parcheggiata nella zona, una BMW nera. A fare la mara scoperta sono stati i residenti che hanno allertato immediatamente gli uomini del 115 e ora tocca ai carabinieri della stazione di Sulmona, coordinati da Capitano Florindo Basilico, far luce sulle cause che hanno provocato l'incendio. Tutte le ipotesi al momento restano percorribili. Ciò che i militari escludono a priori è un eventuale collegamento dell'episodio di via Ciofano che risale a questa notte alla vicenda dell'altra auto recuperata completamente bruciata e località incoronata nei giorni scorsi. Anche in quel caso sono ancora in corso le indagini di polizia e carabinieri. Non si può dire nel frattempo che i residenti di via Ciofano abbiano vissuto un dolce risveglio. Tutti scossi e incredoli per quanto accaduto hanno richiesto nell'immediato l'intervento delle forze dell'ordine.